Ben tornati a J Magazine del martedì, oggi parliamo di politica, che succede nel centro-destra dopo lo scioglimento del PDL e quindi la divisione tra Forza Italia e nuovo centro-destra si è assistito ad una spartizione politica e anche a livello locale con l'approssimarsi delle amministrative sulla composizione delle liste ma anche sulla scelta dei candidati sindaci il centro-destra sembra davvero sull'orlo di una crisi di nervi singolari sono i casi infatti che tratteremo anche di Tortoreto, Sant'Egiglio ma soprattutto del comune di Giulianova dunque centro-destra sull'orlo di una crisi di nervi io vado a presentare gli ospiti partendo dal consigliere provinciale ma anche consigliere comunale al comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni Buonasera a tutti Salve E accanto a lui il capogruppo provinciale del nuovo centro-destra, Capogruppo regionale del nuovo centro-destra Lanfranco Venturoni Buonasera Salve Buonasera Poi vado a presentare il collega, il giornalista Luca Zarroli, grazie di essere qui e poi il candidato sindaco al comune di Giulianova per il centro-destra Gianluca Antemmi forse candidato per il centro-destra Sicuramente candidato Proprio questo è il punto tra le realtà che tratteremo oggi, c'è proprio quella Giuliese che sta vivendo un momento particolare, più candidati e una lotta fratricida all'interno anche dello stesso partito, non soltanto dello schieramento del centro-destra Ma io comincerei subito con questa domanda proprio, che succede nel centro-destra? Partirei con Lanfranco Venturoni Ma che succede nel centro-destra? Non c'è nessuna crisi di nervi Noi abbiamo fatto una scelta che poi è stata la conseguenza della scelta nazionale nel momento in cui Alfano si è staccato da Berlusconi e ha creato il nuovo centro-destra In realtà questa scelta è stata sicuramente dettata più da motivi a mio avviso interni soprattutto sulla successione a Berlusconi da una parte e dall'altra soprattutto da una linearità nella politica che il PDL aveva seguito in quel momento cioè si stava appoggiando un governo di largo intese per poter fare le riforme Dopodiché nel momento in cui Berlusconi è andato via dal Parlamento si voleva andare di nuovo alle elezioni tra l'altro con un sistema elettorale che sicuramente il porcellum che non era tra l'altro anticostituzionale è stato dichiarato pure e quindi se prima non si facevano le riforme non si poteva andare a votare e i falchi cosiddetti dietro a Berlusconi hanno determinato questa posizione che noi non abbiamo condiviso Io penso che oggi è importante, più che i personalismi, l'interesse del Paese è un Paese in cui in questo momento penso che tutti quanti riconoscono una crisi profonda una crisi economica, non certo religiosa è una crisi che coinvolge tutti ogni giorno noi politici troviamo ad affrontare problemi della gente almeno chi sta in merito la gente che non trova i posti di lavoro che sta in gas integrazione e quant'altro io credo che questo sia il problema principale da affrontare io che mi rideputo un integralista democristiano ma ai tempi Integralista democristiano? Dei tempi però, perché adesso siete tornati integralisti questi democristiani, ma di un democristiano tipo De Gasperi un democristiano tipo, voi siete più giovani di fanfani, di persone che no è una battuta nel senso che di politici che fanno l'interesse del Paese soprattutto in quel periodo c'era stata una guerra e quindi bisognava far risolgere l'Italia in questo momento c'è una guerra economica sicuramente a livello mondiale e l'Italia se si vuole salvare se gli italiani si vogliono salvare bisogna fare una politica diversa una politica sicuramente che tiene più all'impresa all'occupazione non certo a certi diritti che a volte non ci possiamo permettere io tornando sulla politica locale ripeto, ho fatto questa scelta nonostante sono stato il fondatore di Porta Italia in provincia ma anche in Abruzzo penso di aver partecipato in maniera molto diciamo determinante inizialmente nella costituzione di questa Porta Italia nel lontano 95 stato anche capogruppo sì, sì, sono stato tra l'altro vicepresidente del Contiglio era stato il più votato in assoluto di Porta Italia quando nel 95 mi sono affacciato sulla scena politica precedentemente non mi ero mai candidato neanche a consigliere comunale quindi non per appartenenza politica l'indeclismo il democristiano per ideologia una persona moderata di centro che pensa, ripeto a un buon governo della regione ora ripeto, questa scelta è stata una scelta sofferta sicuramente perché abbandonare un simbolo dove uno c'è nato tra l'altro per prima oggi mi vedo questa bandierina spesso messa da persone che ne hanno detto tutti i colori contro Forza Italia mi fa anche un po' male però fondamentalmente è una scelta ideologica politica la politica deve tornare all'ideologia e oggi credo scusa se apro un attimo questa parentesi perché poi è l'epifenomeno che giustifica anche in questo momento tutte queste candidature o una unità di partito cioè una volta c'erano i partiti che riuscivano a guidare una coalizione guidare un partito politico guidava soprattutto i candidati sia esser contiglieri sia esser sindaci sia esser diciamo presidente di regione oggi la politica si è sempre più individualizzata cioè non c'è più il partito c'è il leader politico se lei fa caso nel tempo 30 anni fa non esisteva nessun nome nessun simbolo c'era un partito comunista democrazia cristiana partito socialista non c'era il nome del leader oggi invece non c'è più un partito dove non c'è il nome si è andato verso la personalizzazione della politica e questo non va bene con delle leadership molto forti io assolutamente non lo condivido questo tipo di fare politica ma infatti lo scioglimento del PDL come diciamo che ha prodotto una frantumazione anche a livello locale sta causando queste frantumazioni però in questo caso lei ha nominato ci sono dietro dunque delle logiche personalistiche dietro queste frantumazioni anche a livello locale Massimo Massimo Pagnoni ci sono queste logiche personalistiche credo di sì però insomma io lo slegherei un attimo all'aspetto probabilmente contemporaneo anche delle elezioni di adesso è chiaro che insomma dovunque in qualche maniera si è personalizzato troppo noi insomma viviamo anche a livello nazionale una situazione in cui chiaramente contano molto i leader lo vediamo anche adesso con il governo Renzi in cui è più il presidente in qualche maniera che ci mette la faccia in prima persona e credo che i partiti almeno i più grandi insomma fanno un po' del proprio leadership la propria forza è chiaro che questo però insomma non deve andare mai a discapito di quello che è un po' il vero interesse che bisogna perseguire per chi fa politica quindi i personalismi fino a se stessi non portano da nessuna parte quindi è chiaro che bisogna in qualche maniera ogni qual volta anteporre quello che è un interesse localistico in generale a quelle che sono un po' le ambizioni personali di sicuro insomma è uno dei motivi per cui insomma anche io personalmente ho avuto da lamentarmi su quello che era magari diciamo la conduzione di certe dinamiche da parte del PDL che al di là degli aspetti personali insomma davano origine a situazioni di ambiguità per cui poi l'elettorato non comprende nemmeno chi ha di fronte quindi io credo che dovremmo ritrovare tutti quanti un po' di chiarezza e quindi al di là dell'aspetto anche giornalistico che adesso fa notizia sul discorso di un centrodestra che si trova in discussione ma sicuramente però credo che sia anche normale quando un partito di una certa forza in qualche maniera si divide insomma che poi tra l'altro noi è una divisione che abbiamo subito insomma a catena scelte a livello centrale chiaramente insomma vanno fatti determinati discorsi e andrebbero fatti anche da capo però mettendo da parte i personalismi certo parli di confronto confronto aperto anche all'interno del partito democratico c'è questo confronto aperto però qua non ci sembra di capire una lettura politica ci sembra di capire che ci sia uno scontro fratricida e vorrei che mi supportasse in questa lettura il collega Luca Zarroli ma l'analisi che faceva soprattutto Venturone è molto interessante sul discorso legato al personalismo della politica è altrettanto vero che Berlusconi ha un po' scombinato questi piani insomma il fatto di personalizzare l'aspetto di natura politica è stata la sua forza soprattutto all'inizio e poi si sono inevitabilmente accodati in questo momento non c'è una competizione elettorale nella quale non c'è il nome del leader ma anche il discorso di Vendolo mi viene in mente insomma è comunque identificato in una persona e questo rappresenta in un momento come questo il limite ma anche la forza anche perché l'organizzazione classica dei partiti insomma è un po' venuta meno nel centro-destra in questa fase laddove insomma c'è stata questa divisione del PDL la sensazione è che comunque ancora non ci si è riposizionati nella giusta maniera a livello nazionale è un conto probabilmente lì ci sono state delle divisioni dal mio punto di vista più tattiche nel senso che poi le divisioni sono soltanto di questo genere anche perché il modo di pensare è identico secondo me quel tipo di divisione andrà alla lunga andrà dal mio punto di vista precomposto non potrebbe essere altrimenti finita questa fase interlocutore intermedia secondo me si ritornerà è improponibile pensare che il PD possa governare con il nuovo centro-destra questa ovviamente è un'analisi chiara di riflesso però a caduta si sono create delle situazioni un po' equivoche parlavi insomma del fatto di quello che sta succedendo a livello locale ma mi viene in mente anche l'esempio che sta succedendo al comune di Pescara da dove insomma si è creato un dualismo tra il sindaco uscente e testa e anche questo è un altro elemento Luigi Albore-Mascia e Guerino-Testa e Mascia potrebbe insomma non finire la sua amministrazione sono insomma giorni ore decisive insomma anche per il futuro questo è un esempio insomma che esula poi della realtà stretta che viviamo in questa zona c'è lo stesso Quagliarello il nuovo centro-destra tra l'altro Lanfranco che propende per la candidatura di Guerino-Testa addirittura mettendo sul piatto della bilancia anche la candidatura regionale anche la candidatura a governatore d'Abruzzo la ricandidatura di Gianni Chiodi credo che noi come il nuovo centro-destra rappresentiamo una realtà importante in questa regione basti pensare che per i parlamentari ben quattro sono del nuovo centro-destra e solo tre di Porta Italia cioè c'è Razzi Pelino e Di Stefano in Porta Italia di qua c'è Quagliarello Piccone Tancredi e Federica Chiavaroli al di là del valore personale di ognuno credo che il nuovo centro-destra abbia grossa rappresentanza locale ripeto in un progetto politico nuovo diverso e naturalmente non si può non chiedere una rappresentanza nel momento in cui si va a fare una nuova competizione elettorale cioè il fatto che noi il Presidente della regione che è di Porta Italia Gianni Chiodi che ha fatto questa scelta che Brucchi ha fatto la scelta di Porta Italia a Teramo che Giulianova vogliono imporre e comunque noi siamo disponibili a un candidato di Porta Italia a Pescara vogliono ancora riconfermare e Montesilvano pure di Porta Italia credo almeno in queste realtà dove si va a votare che sono le realtà dove si mettono i simboli cioè sia la regione che i cinque comuni dove si mettono i simboli cioè una rappresentanza del nuovo centro-destra che sia più che legittimo in passato io ho fatto il segretario di Porta Italia quando c'era il CCD e c'era l'alleanza nazionale non è che prendevamo tutto noi anche se una volta più forte ma al di là di questo perché neanche questo sarebbe giusto il problema è un altro il problema è che per primi quelli propri di Forza Italia di Pescara hanno riconosciuto in Guerino Testa una forza elettorale maggiore di Arbore Mascia e che adesso invece per motivi prettamente tattici tant'è vero che se fossero rimasti il PDL io sono convinto al 100% che il candidato al comune di Pescara era Guerino Testa allora adesso invece si vuole in qualche modo voler imporre una candidatura che sicuramente è più debole di Testa per motivi invece di strategia interna loro questo è cui noi non ci stiamo su questo noi non ci stiamo punto cioè o si fa un discorso di coalizione o altrimenti ognuno fa gli interessi propri non è possibile che portare acqua solo all'altro mulino no io credo che noi siamo una realtà vera ma rispettata come noi rispettiamo quelle di Porta Italia di strategia interna che si stanno vivendo anche Giulianova Gianlu Cantelli lei tra l'altro è all'interno di Forza Italia dalla prima ora dalla primissima dalla primissima noi quando si paventava così la possibilità di ritornare a Forza Italia abbiamo costituito il gruppo consigliare il 30 di luglio poi formalmente Forza Italia a livello nazionale invece si è formata mi sembra la fine di ottobre la metà la fine di ottobre quindi per quanto ci riguarda perché creavamo in quel percorso lì ma vedi prima si diceva che nell'ambito del centro-destra si sta consumando una guerra fraticida nella fattispecie di Giulianova io ritengo che invece sia più una questione territoriale e di rispetto della volontà del territorio non c'è nulla di fraticida Giulianova perché noi ci siamo oltretutto invitati dai vertici provinciali regionali del partito riuniti per portare avanti la candidatura nell'ambito di Forza Italia di qualcuno che potesse rappresentare il gruppo sicuramente non unanime ma abbondantemente maggioritario perché ovviamente la pretesa non è pensabile che è quella di tenere tutti quanti condivisi su uno stesso discorso su uno stesso nome questo l'abbiamo fatto abbiamo fatto i nostri passaggi democratici il gruppo di Forza Italia a livello comunale si è espresso su questa espressione non c'è stata nessuna eccezione di sorta addirittura abbiamo avuto la condivisione da parte di quelli che sono gli alleati naturali di Forza Italia nel cambio del centro-destra è di una lista civica che ha sottoscritto questo tipo di candidatura quindi io francamente non vedo che tipo di problema c'è mentre si faceva prima l'esempio di Pescara lì ci sono due partiti politici ognuno cerca di portare avanti la propria proposta a Giulianova non è così a Giulianova c'è una Forza Italia locale che è chiaramente su un nome c'è una condivisione da parte del partito di una lista civica quindi francamente non vedo cioè vedo soltanto discorsi illogici da questo punto di vista da questo punto di vista vedo soltanto discorsi illogici se ci sono delle interferenze probabilmente la riflessione si però non si sono mai appalesate diciamo perché noi abbiamo anche detto benissimo questo è il nome che rimettiamo al partito provinciale se ci sono alternative benvengano le alternative ma qui stiamo parlando di alternative che non ci sono nell'ambito del recinto di Forza Italia se dopo si immagina che ricoprendo un ruolo magari provinciale regionale di esponenti politici di un partito si vogliano sponsorizzare o si voglia portare questo partito a livello locale da altre parti beh questo francamente mi sembra un gioco che non è rispettoso dei simpatizzanti del movimento di Forza Italia non è rispettoso di quei simboli lì quindi nel recinto di Forza Italia si dicesse se c'è un'alternativa qual è? a tal proposito se con l'ausilio della regia manderei in onda un contributo qui di tratto dal 45 giri dove abbiamo avuto ospite Enrico Mazzarelli segretario centrale dell'ufficio di presenza della regione Abruzzo in cui si parla di queste nomine e si parla anche di Giuliano vediamo secondo me Torto Veto e Sant'Egidio sono un po' il caso scolastico per usare un termine caro la mia professione per il caso scolastico di quel discorso che facevamo prima cioè ci sono degli amici che hanno fatto un percorso che oggi è un percorso che è andato a terminare e che si propongono secondo me legittimamente con qualche ambizione nei rispettivi ambiti comunali ciò non vuol dire che non ci debba essere una sintesi politica sul percorso e sulle ambizioni di ciascuno cioè secondo me non è dicendo no tu non puoi farlo che si realizza il fine della politica si corre anche il rischio di perderle le elezioni si corre il rischio di perderle se poi non si riesce a fare sintesi ma secondo me il grande ruolo della politica e anche della politica provinciale in questo momento è quello di andare di calarsi nelle realtà comunali per cercare di ottenere la sintesi migliore che non è il nome di tizio il nome di caro il nome di sembronio ma è il concetto il valore dell'unità del centro-destra cioè l'unità del centro-destra per amministrare e continuare visti tanti comuni in cui amministriamo ad amministrare per realizzare i programmi e i progetti fatti che poi a Tortoreto possa essere il nome A il nome B a Sant'Omero il nome A il nome B secondo me conta poco conta riuscire a fare sintesi globale generale sul progetto non è un problema di nome è un problema di progetto la politica è solo progetto la politica è solo programma la politica è solo percorso se andiamo dai cittadini e riusciamo a fargli capire che abbiamo un'idea di come amministrare Sant'Omero di quello che vogliamo fare di quello che dove vogliamo prendere Sant'Omero e dove vogliamo portarla tra 5 anni Sant'Egidio Sant'Egidio dovunque andiamo avremmo potremmo stavo usando un esempio potremmo avere il loro apprezzamento e quindi riscuotere il successo elettorale a cui aspiriamo se noi andiamo semplicemente con una logica di nomi andiamo semplicemente contrapponendo Tizio a Caio non credo che potremmo essere apprezzati se abbiamo apprezzati sia la base di tutto ci sia un programma ci sia una scelta strategica sul territorio ci sia una scelta progettuale sul territorio di trasmissione e di realizzazione quello credo che sia quello che la gente vuole sentire oggi non vuole sentire se Caio è migliore di Tizio o Tizio è migliore di Caio vuole sentire che cosa vuole fare Tizio e dove una classe politica vuole portare la propria comunità il tuo è un discorso ampio che va oltre le situazioni no secondo me non va oltre perché poi bisogna entrarci bisogna sederci bisogna affrontarle una per una e quindi il discorso riguarda anche Giuliano Ovadore Gianluca Antelli è partito con una iniziativa vogliamo definire particolare vorrei usare termini che suscitino antipatia anche perché ascolterà queste parole oggi pomeriggio sarà il nostro ospite però credo che abbia utilizzato un percorso che poi di anticipazione dei tempi se vogliamo così che dal suo punto di vista è assolutamente corretto e legittimo altrove forse viene visto magari un po' frettoloso se vogliamo parafrasare i contenuti di un comunicato stampa credo che il principio fondamentale non sia quello di dire io o Walter o Tizio o Caio sia dire cosa è lì che si gioca la partita delle elezioni io vorrei sentir parlare di che cosa vogliamo fare a Giuliano non vorrei sentir parlare di chi dobbiamo quindi vale Sant'Egiglio Giuliano vale ovunque perché vale ovunque per la gente alla gente non interessa se noi proponiamo Tizio o Caio certo la gente interessa al popolo dicendo adesso interessa che siamo insieme questo è un valore lo abbiamo capito e lo abbiamo capito credo anche in tempi nei tempi giusti per poi raccoglierne i risultati però quello che la gente vuole sentire è che cosa noi proponiamo per una comunità visto che parliamo di elezioni comunali di come ipotizziamo il futuro tra 5 anni o forse tra 10 o forse tra 15 di Giuliano piuttosto che di Sant'Egidio piuttosto che di Sant'Omero è chiaro che se parliamo di Giuliano il discorso diventa più significativo perché parliamo di quella che tutto sommato è la seconda insieme a Roseto città della provincia a dispetto di numeri di uno più uno meno e quindi che d'estate diventa la prima insieme a Roseto località per presenze molto maggiore rispetto anche al capoluogo e quindi evidentemente parliamo di una logica nella quale certamente ipotizzare immaginarci un percorso di crescita strategica di pianificazione strategica di veramente Giulianova 2030 deve a mio modo di vedere avere accesso lì ci dobbiamo confrontare secondo me Allora abbiamo ascoltato questo intervento di Enrico Vazzarelli o ripartirei proprio da Gianluca Antelli è stato frettoloso? No ma a parte che queste parole io le ho sentite cinque anni fa di straforo perché ero appena entrato diciamo così per la prima volta ad una competizione elettorale e lì si arrivò alla candidatura di Giancarlo Cameli mi sembra a cinque dieci giorni prima della chiusura delle viste quindi arrivare aspettando guardandosi intorno ragionando dopo cinque anni di tempo mi sembra un'ammissione di colpa più che una possibilità che uno si apre rispetto alla cittadinanza noi dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare lo sappiamo benissimo in quanto questo è un momento per noi di rendicontazione siamo stati in consiglio comunale cinque anni altri no noi si perché democraticamente eletti abbiamo avuto modo di affrontare tutti i temi che hanno riguardato l'amministrazione comunale negli ultimi cinque anni sappiamo cosa ci chiedono i cittadini di Giulianova sappiamo cosa ci chiedono le attività produttive le attività commerciali tutte le associazioni di categoria lavoriamo con loro da cinque anni stiamo già lavorando alla stesura di un programma quindi sappiamo benissimo e non abbiamo altro tempo da perdere da questo punto di vista quello che il segretario Mazzarelli chiama uno scatto in avanti un'operazione frettolosa è stata una giornata bellissima molto partecipata da oltre 200 cittadini liberi di Giulianova che si sono ripresentati oltretutto che è cittimata da moltissimi sindaci tra cui il sindaco di Roseto che in maniera personale ma anche da un punto di vista amministrativo il vicepresidente della provincia Renato Rasicci il capogruppo regionale Venturoni sono venuti a Giulianova a legittimare una presa di posizione forte su quel territorio quindi io francamente tutto questo giro di parole lo comprendo poco alla luce di quelli che sono i fatti sì anche Nazario Pagano il coordinatore regionale di Forza Italia non ha scritto la settimana scorsa che non è stata ufficializzata alcuna candidatura quindi anche anche Pagano ha definito frettolosa questa prematuro anzi ha definito improduttivo questo scatto in avanti ma a me improduttivo invece mi sembra che frenare tutto questo risulterà poi improduttivo perché agli occhi della gente non si riesce a far passare quel messaggio di cambiamento totale che invece nell'aria c'è e la spinta forte delle persone che stanno con noi che erano qui sabato ma tante altre che ce ne sono con le liste di candidati pronti a metterci la faccia pronti a scendere in campo quello sì veramente potrebbe risultare improduttivo poi è evidente che le ratifiche delle candidature a sindaco non si fanno in questo momento ma questo vale per tutte le candidature a sindaco perché ci sarà il momento in cui si presenteranno si raccoglieranno le firme si presenteranno le candidature a quel punto i partiti metteranno da buon notaio il timbro sopra la candidatura stessa non ci aspettiamo questo oggi però sicuramente ci aspettiamo che il partito i partiti così come la gente prenda atto di quello che a Giulianova sta succedendo sicuramente appoggiato dal nuovo centrodestra dal coordinatore regionale Antelli a Giulianova anche se in città fino a qualche settimana fa si vociferava che il nuovo centrodestra appoggiasse Fabrizio Retco quindi anche qui qualche frantumazione la situazione di Giulianova di per sé è troppo complicata per essere compresa in realtà è abbastanza semplice se vogliamo come schema nel senso che abbiamo una parte che è partita già tempo fa con l'associazione Linea Retta che porta Fabrizio Retco al candidato sindaco a Giulianova non oggi sto parlando ormai di molti mesi fa settembre dell'anno scorso poi c'è una realtà e questa è la parte più a destra dello schieramento di centrodestra poi invece la parte più a sinistra di lo schieramento di centrodestra è rappresentata dal progresso giuliese che in realtà è una raccoglie sia anime di centrodestra che anime di centrosinistra sono praticamente consiglieri comunali che hanno rotto con la sinistra e con il partito democratico che sono andati con il progresso giuliese e c'è la lista civica di Francioni che praticamente è entrato dentro questo contenitore naturalmente questo è andato via da Mastromauro quindi sono di per sé in contrapposizione con la sinistra ora se si riuscisse a portare tutto il centrodestra compreso anche il progresso giuliese in un'unica coalizione credo che Giuliano la partita sarebbe già chiusa senza neanche di giocarla e quindi è ovvio che si cerca di fare questo e purtroppo abbiamo a che fare con due opposti che naturalmente sono poco compatibili quanto meno allora al centro noi siamo di centrodestra dobbiamo prendere una posizione una posizione che naturalmente adesso si chiama Gianlu Cantelli perché localmente quindi il nuovo centrodestra è stato appoggio il nuovo centrodestra vicino alla Porta Italia noi abbiamo detto Porta Italia locale dice chi portate voi e loro hanno detto Gianlu Cantelli a noi ci sta bene non c'eravamo un candidato nostro il problema è che noi dobbiamo creare un raggruppamento che non è soltanto il nome della persona bisogna vedere sta dietro come liste cioè ci sono delle liste che portano avanti questi candidati benissimo una volta fatto questo quando almeno creiamo un gruppo centrale di forse Italia locale fino a quando almeno questo non viene smentito il nuovo centrodestra c'è anche una lista civica che non mi ricordo come si chiama Giulianova rinasce che in realtà esprimono per loro un candidato sindaco dopo si apra a mio avviso questa è la corretta si apre una trattativa sia con la destra che porta a rettico non a caso fratelli d'Italia sono usciti chiaramente nel nome di rettico e da l'altra parte c'è il progresso giuliese che porta avanti la candidatura della Ciafardoni allora se si vuole andare insieme si fa una sintesi se si fa separati può anche raggruppare due il terzo no si vedrà dopo il ballottaggio oppure l'ideale sarebbe tutte e tre ora se non si esprime comunque un candidato anche nostro il problema non è che la candidatura Gianluca Andelli non è che rompe o interrompe una candidatura già formata precedentemente idealmente su quello che è tutto il centro-destra assolutamente no perché ci sono due posizioni comunque contrapposte tra rettico e la Ciafardoni ora Gianluca Andelli può essere la sintesi o può essere uno strumento per provare lo stesso Mazzarelli parlava di sintesi politica Vagnoni sei rimasti insicuro un consigliere provinciale esatto l'importante è che succede succede parlava di sintesi politica però sei un consigliere provinciale leggi un po' la situazione anche perché sei insomma membro del partito sei fino a prova contraria sei ancora membro di forza Italia sì non so se sono adatto a parlare di sintesi però insomma ci provo visto l'esperienza vissuta personalmente ma insomma vorrei anche un attimo rassicurare parliamo delle elezioni ricordiamo la Martinsiciero diciamo adesso si parla di esponenti regionali che dicono che forse si è fatto un passo avanti un po' troppo in fretta e tutto quanto insomma la mia candidatura passò attraverso due coordinamenti quindi penso forse un caso più unico che è raro quindi il pre-congresso il post-congresso per dargli una maggiore legittimità ma servire bene a poco come ben sappiamo quindi insomma queste sono cose che effettivamente lasciano il tempo che trovo quindi dici meglio partire prima no io dico questo insomma come diceva il dottore giustamente insomma localmente sanno loro secondo me come stanno le cose è chiaro che lo capiscono tutti che se riesce a fare una sintesi su quelle che sono è chiaro che insomma il punto di vista di partenza di chi ha fatto cinque anni di opposizione è un punto di vista chiaramente dal mio punto di vista forte perché insomma ha fatto un altro tipo di esperienza l'augurio e l'auspicio è che veramente questa sintesi e i partiti servono a questo la politica dovrebbe servire a questo queste situazioni si hanno e vengono alimentate quando la politica non è forte e comunque in qualche maniera non è d'ausilio non deve essere in posizione chiaramente dall'alto però insomma un discorso di sintesi per cui insomma chi dirige i partiti dall'alto deve farsi promotore questo è un qualcosa che nei comuni cui si parlava insomma Giuliano sicuramente è il più importante io mi auguro che si faccia questo discorso qui non la vedo molto semplice perché il problema è che a me viene da pensare qui protest a chi giova perché poi alla fine le elezioni si perdono io credo che il centro-destra io per ragione di lavoro frequento molto Giuliano posso dire che c'è voglia di cambiare di cambiare è chiaro che va data una proposta concreta e sono convinto che gli interlocutori a partire da Antelli sapranno ben interpretare questa forza e sapranno farsi portatori di questa sintesi tra i diversi candidati che ci saranno a poterlo fare è chiaro che la cosa da non fare è quello di farci vedere veramente divisi già adesso che poi amministrare è difficile quindi insomma questi ragionamenti io credo che le discussioni ci debbano essere perché poi insomma se è tanto parlato della necessità delle primarie delle discussioni nei vari partiti poi quando un partito di centro-destra forte che ha raggiunto percentuali elevatissimi nel corso degli anni come il PDL si divide per ragioni diverse chiaramente ci sono dei problemi di riassestamento di ambizioni personali chi è che non ce l'ha ce l'hanno tutti probabilmente queste situazioni di ambizioni personali generano anche dei conflitti però insomma la politica deve fare sintesi la fa sulle persone sono d'accordo anche sui programmi insomma su tutte queste questioni proprio per dire che non c'è stato nessun preconcetto nelle persone ma si voleva creare una correzione quantomeno più ampia io per primo ho proposto Giabrando Francioni candidato sindaco a Giuliano e parlando con Gianluca Antelli dice se Gianbranco Francioni io faccio un passo indietro lo riconosciamo come un nostro possibile sicuramente candidato sindaco che ci può portare anche la vittoria per me è che Francioni ha deciso lui di non candidarsi ma il problema è più politico che non sulla quindi sulla persona perché perché dice allora candidiamo la Cefardoni la Cefardoni viene dalla sinistra il partito democratico il popolo di centro-l'est rischiamo che può non riconoscerla non capirete perché dobbiamo andare a questo l'altra parte ripeto l'altra candidatura allora io vorrei rivolgere la domanda a questi signori perché no Gianluca Antelli esatto cioè domandiamoci prima di dire no perché no allora voglio dire era la domanda che aveva fatto ma messero con il gesto quindi che alla fine si vada però giusto perché c'è stata già una dichiarazione di no sul nome di no ha detto che sono stati comunicati diciamo direi che è la presa di posizione ufficiale è arrivata dal coordinatore regionale di fornare semplicemente non ha detto no però la dichiarazione ufficiale è stata di comportamento di atto scatto in avanti prematuro è improduttivo ma improduttivo io vorrei che su questa parola si affermasse il collega Luca Zarroli perché improduttivo cioè a chi giova si parla di sintesi politica però poi alla fine il concetto di improduttivo poi bisognerebbe chiederlo concretamente chi ha espresso questo tipo di considerazione Giorgolantelli poi mi può anche correggere anche nelle ore immediatamente precedenti all'ufficializzazione della tua candidatura anche il sindaco di Teramo Brucchi chiesto ufficialmente insomma di fermarti insomma se non sbaglio quindi probabilmente come diceva anche lo stesso Mazzarelli un salto in avanti fermo restando che ma questa è una riflessione che in parte faceva anche Venturoni cioè aveva un comune comunque al di sopra i 15 mila abitanti quindi poi dal punto di vista pratico poi certe alleanze possono essere qualora si vada al secondo turno trovate in quella fase la dimostrazione è quello che è successo al comune di Roseto due anni fa tre anni fa quindi potrebbe essere anche in questo momento come posizionarsi in una certa maniera e poi trovare delle sintesi magari dopo non sempre è agevole fare questo tipo di sintesi la domanda di Venturoni a chi è che non vuole secondo te Gianluca Antelli all'interno parlavamo prima di interferenze forse c'è un'altra riflessione che va fatta questa tornata elettorale per le amministrative combacia con le regionali e secondo me molte di queste spiegazioni sono in questo ragionamento qui dal mio punto di vista quindi si giocherebbe tutto nello scacchiere delle elezioni regionali c'è l'interferenza dei candidati di condizioni regionali su queste elezioni amministrative io sono sempre uno che parla molto chiaro e quindi il consigliere regionale nel momento in cui va sul territorio cerca di crearsi un suo elettorato naturalmente lo crea anche con chi fa politica e naturalmente sponsorizza il politico sul territorio rispetto a un altro che ha sicuramente interessi opposti ecco perché la mancanza quindi alla fine del partito può incidere in termini negativi cioè una volta questo non accadeva nemmo nemmai voglio dire quando ho fatto per anni il segretario provinciale raramente mi sono messo contro le realtà locali cioè proprio almeno che non le vedevo proprio per dendi e quindi un colpo di spugna per rinnovare completamente una struttura che era stata deficitaria per anni e non mi dava nessun risultato altrimenti comunque c'è deve essere un confronto locale che dire voi che ne pensate che poi il candidato deve essere il territorio la politica poi la fa lui la fa non soltanto in termini elettorali ma la fa anche poi nei cinque anni di amministrazione non è che uno può andare dall'alto a dire no io prendo la spada e battezzo Giovanni e Battista e quello che grazie al simbolo domani diventa il politico del territorio non è così Antelli quindi a Giulianova rischiamo di avere tre liste di riferimento del centrodestra abbiamo ricordato la Ciafardoni che comunque è portata da un assessore regionale ma io credo che alla fine il buon senso preparerà su tutto diceva prima Massimo che a Giulianova c'è una forte area di cambiamento non può essere sicuramente il comune di Giulianova l'agnego da dover sacrificare sull'altare degli regionali questo è fuori discussione i cittadini di Giulianova questo lo hanno capito è ovvio che il dato il discorso vale anche al contrario quindi se c'è un discorso che riguarda le regionali con le proprie influenze sul comune di Giulianova di converso c'è il discorso che il comune di Giulianova è fatto di 14 mila elettori che votano anche le regionali quindi il discorso vale anche al contrario io credo che il buonsenso alla fine preparerà su tutto ovviamente senza avere come dicevo prima la pretesa di poter mettere tutti d'accordo perché non mi sembra che ci siano i margini assoluti per fare questo però sicuramente le persone i gruppi più responsabili che a Giulianova hanno la voglia di cambiare di mettersi a disposizione del comune per dare e rilanciare questa città sicuramente si siederanno attorno a un tavolino e troveranno poi la sintesi io immagino voglio immaginare voglio credere nel buon senso degli interlocutori bene andiamo un attimo in pubblicità torneremo a parlare ancora di Giulianova ma anche di altre situazioni di Sant'Egidio e soprattutto di Tortoreto eccoci qui ben rientrati dopo la pubblicità stiamo parlando di elezioni amministrative di frantumazioni o spezzettamenti come vogliamo chiamarli politici all'interno del centro-destra all'interno della stessa Forza Italia un'ulteriore riflessione su Giulianova con l'elemento creato dall'assessore regionale Paolo Gatti la chiedo a Lanfranco Venturoni io credo l'ho detto prima che sia veramente strategica un'alleanza con Progresso Giuliesi per il centro-destra e penso che l'assessore Paolo Gatti sia sulla stessa linea ora questa alleanza si fa sui programmi come diceva prima Mazzarelli che come al solito percorsi da condividere percorsi da condividere che dovrebbe essere così ma parliamoci chiaro poi così non è o si fa riuscendo a trovare un accordo anche per quanto riguarda i ruoli che nell'amministrazione comunale si va dopo un giorno a ricoprire io penso tutte e due però credo e sono convinto che un accordo con Progresso Giuliese diventa determinante per la vittoria a Giulianova fermo restando che gli amici di Fratelli d'Italia che storicamente sono di centro-destra e parte proprio della destra Giuliese naturalmente non è che sono alleati di Serie B anzi quelle sono le nostre naturali alleati però fondamentalmente può essere il valore aggiunto può essere Progresso Giuliese ora è chiaro che se si riesce quantomeno a trovare una prima sintesi con Progresso Giuliese poi sarà più semplice anche con Fratelli d'Italia io credo che al di là di queste strategie che non è frantumazione ma è soltanto che ancora dobbiamo andare alla campagna elettorale quindi molto altrimenti spero che ci andiamo uniti ma al di là di questo una cosa è certa Giulianova che il sindaco attuale non riscuote più la fiducia della gente basti pensare che proprio all'interno della sinistra se noi stiamo facendo diciamo uno studio tattico strategico per poter arrivare a una sintesi per una candidatura unitaria a sinistra sicuramente questo non sarà mai possibile senza pensare che poi c'è sempre adesso la diciamo la novità del movimento 5 stelle che è un punto interrogativo che non si sa mai perché presentano una lista anche a Giuliano certo quindi come va a finire quindi io credo che sia indispensabile il consiglio che do io di chi si riconosce nel nuovo centrodestra di abbandonare poi alla fine i personalismi e trovare sicuramente una sintesi politica per prima poi se il candidato sindaco che si chiama Giovanni o Battista secondo me deve essere un discorso relativo rispetto invece a cambiare il comune di Giuliano o nel governo del comune di Giuliano tutto questo è un principio tradurlo poi in pratica non sarà semplice accadrà il primo turno accadrà il secondo turno credo proprio che la presenza del movimento del 5 stelle sia determinante non andare troppo frantumati perché veramente poi si rischia di non arrivare neanche al ballottaggio quindi un'aggregazione almeno tra una parte del nucleo centrale centro-destra che sia su progresso giuliesi che su progresso di Giale va fatta comunque prima poi si vedrà che succede può darsi anche che sia strategico in termini politici per un accordo successivo certo Vagnoni sorrideva non mi auguro che accadda anche questo però io vorrei anche si legale a Tardutti Uniti questo non abbiamo dei dubbi chiaramente perché condividendo già dall'inizio quello che può essere una strada che è comunque difficile io credo che possa essere meglio però ripeto è una questione che devono decidere localmente però io credo che vada sottolineato con un altro aspetto perché altrimenti sembra veramente che il centro-destra sia impegnato soltanto al posizionamento di Antelli rispetto a un'altra figura come candidato sindaco io credo che loro stiano lavorando sicuramente e credo anche negli altri comuni su situazioni programmatiche sono comuni in cui ci sono sindaci uscenti e comuni da riconquistare e io sono convinto che a Giulia Nova stiamo lavorando molto sul discorso veramente programmatico e quello che interessa ai cittadini poi chiaramente ci dovrebbe essere una squadra che si presenta ai cittadini per il futuro questo è un aspetto che secondo me va sottolineato perché altrimenti sembra che il centro-destra sia impegnato più a una lotta di potere che altro ci sono comuni da riconquistare hai detto ma ci sono comuni dove comunque l'espressione è del centro-destra ci sono i sindaci uscenti che sono di centro-destra come Tortoreto e Sant'Egidio la Vibrata volevo una tua analisi su quello che sta accadendo perché anche non soltanto Giulia Nova si sta assistendo a questo spacchettamento quindi la possibilità che si creino più liste all'interno di una stessa coalizione ma anche nella stessa Tortoreto e Sant'Egidio la Vibrata dove pare che si candiderà Elicio Romandini anche se ufficialmente non è uscita la sua candidatura certo io credo che in questi comuni da una parte vaga il medesimo discorso fatto per Giulia Nova chiaro che la situazione di partenza è diversa abbiamo dei sindaci uscenti ora ripeto io faccio sempre la solita promessa si tratta di ambiti localistici in cui insomma la prima sinse la devono fare loro sia Tortoreto che come diceva anche Mazzarelli che a Sant'Egidio probabilmente ci sono due realtà provinciali provenienti dall'aggiunta provinciale interessati comunque sia a mettersi in ballo e quindi a dare il proprio contributo per cercare di ora la presenza di queste persone io credo che possesse soltanto un valore aggiunto non solo come discorso di coalizione ma anche come esperienza acquisita il lavoro fatto in questi anni in provincia e io credo veramente che sia un peccato farne a meno a prescindere è chiaro che ci sono ambizioni diverse storie anche diverse insomma mi riferisco anche al discorso di Romandini a Sant'Egidio per cui insomma ci fu un discorso relativo alla candidatura a sindaco già 5 anni fa poi sciolto con la base di altri tipi di determinazioni ora chiaramente la provincia sta finendo il suo percorso in maniera definitiva penso e quindi chiaramente ci sono le professionalità che si rimettono in gioco e io credo che sia un peccato sia a Tortoreto che a Sant'Egidio farne a meno a prescindere soltanto perché in qualche maniera c'è già una situazione uscente quindi anche qui io mi auguro che sia molto più forte la politica dove deve intervenire per dirmi quello che possono essere dei contrasti ma diventa difficile per me dare un giudizio in questo momento perché insomma bisognerebbe anche vedere il polso della situazione a livello locale com'è certo Luca tu sei di Tortoreto e hai un po' il polso della situazione politica quindi su Tortoreto puoi farci un po' anche tu un punto le due situazioni quelle di Sant'Egidio di Tortoreto presentano come diceva Massimo Ognoli forti analogie anche se poi a livello di rapporti quelli che al momento caratterizzano Romandini e Angelini sono sicuramente molto più tesi rispetto a quello che succede a Tortoreto facciamo anche nomi e cognomi insomma a Tortoreto c'è il sindaco uscente Monti che ha incassato proprio nei giorni scorsi l'ok da parte del gruppo consigliare anche da parte di coloro che non si ricandideranno tra questi c'è il capogruppo di maggioranza Antonio Di Giovanni che ha detto ufficialmente in più riprese che non si ricandiderà però poi c'è l'ombra anzi più che un'ombra sì l'ombra l'unico l'unico componente della maggioranza consigliare che non si è espresso in questo momento relativamente ma queste ovviamente sono indiscrezioni verificate è l'assessore all'urbanistica d'Artarelli storicamente legato dal punto di vista dell'appartenenza politica a Marconi vengono entrambi dalle anze nazionali e dall'altra parte c'è ovviamente Marconi che ambisce lo ha detto cioè non ha mai nascosto l'ambizione di poter essere candidato a sindaco e questo elemento va superato in questa fase è altrettanto vero che è difficile ad un sindaco uscente non dargli la possibilità di un secondo mandato o meglio questa cosa probabilmente andava chiarita prima dal mio punto di vista adesso la situazione è sicuramente molto più anche lì sull'uomo di una crisi di nervo molto più complicata e altrettanto vero ma questo da quello che mi risulta non c'è stato ancora un confronto molto chiaro su una sintesi in quel discorso però pare che Monti venerdì dia l'ufficializzazione ha la sua candidatura con una conferenza stampa e altrettanto vero e siano stati invitati il sindaco di Teramo coordinatore prossimo coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Brucchi e l'onorevole Paolo Tancredi con la presenza forse anche del governatore Gianni Chiodi sì questa è una voce che sarà confermata probabilmente nelle prossime ore ed ovvio insomma poi bisogna vedere la gestione di tutto il percorso di Marconi nei giorni scorsi c'è stato anche la volontà da parte di un gruppo di cittadini di dare vita a una lista civica sulla quale potrebbe investire Marconi è altrettanto vero che poi dopo le liste vanno fatte non è una cosa molto semplice comporre una lista a 16 persone e fare una lista vincente perché poi fare la lista è abbastanza tra virgolette semplice ma il nuovo centrodestra che appoggia a Tortoreto posso? certo vediamo ma la situazione di Tortoreto e di Sant'Egiglio è diversa da quella di Giuliano perché noi a Giuliano c'è un secondo turno a Sant'Egiglio e a Tortoreto non c'è un secondo turno quindi o tutto il centrodestra va unito o altrimenti non è che dopo se ti dividi poi c'è la seconda chance la seconda chance non c'è la gara di ritorno non c'è la gara di ritorno questo è determinante quindi l'accordo l'ho fatto sicuramente prima noi ancora una volta non è che abbiamo posto soprattutto qui a livello provinciale delle diciamo così delle crociate su dei nostri militanti o chi dal PDL si è iscritto al nuovo centrodestra a noi ci piace vincere insomma a chi non può e l'abbiamo fatta e voglio dire che non a caso anche nel PDL Tancredi era il segretario prima ancora lo ero io e quindi di per sé diciamo almeno il nuovo centrodestra c'ha una storia politica dietro cioè che ha un'esperienza di chi faceva i segretari i coordinatori provinciali quindi poi siamo abituati mentalmente più a creare a cercare di creare un consenso globale più che andare a operare invece in termini personalistici oggi purtroppo secondo me e lo dico con amarezza da certo punto di vista mi sembra che Forza Italia sia purtroppo abbia questa malattia ora speriamo con l'arrivo di Bruc che la cosa si ricompone non a casa hanno scelto il sindaco di Teramo perché in realtà lì sono anime un po' contrapposte che in qualche modo poi è difficile andare a tradurre sul territorio come dicevo prima aveva pochi carichi quindi anche questo noi al Toretto e Sant'Egis se andiamo a voler vincere a Giulianova dove non governiamo sarebbe veramente assurdo non rivincere dove già governiamo che vuol dire che già precedentemente la popolazione si era espressa a nostro favore contro la sinistra allora due sole cose o praticamente noi abbiamo governato male per cui ci punisce l'elettorato o se abbiamo governato bene sicuramente non ci possiamo permettere il lusso di poterci spaccare per perdere l'elezione perché io sarei da militante al centro-destra del posto sarei il primo a protestare insomma però io sono convinto che sia a Tortoreto che a Sant'Egiglio abbiamo governato bene non abbiamo governato tanto male credo che i rapporti non siano che il problema non sia più sull'azione politica che è stata fatta e amministrativa ma si sono rotte un po' dei rapporti personali all'interno dei soggetti che militano all'interno di queste coalizioni a questo punto ci vuole un intervento veramente qui del partito che alla fine rimette in piedi non dico i cocci ma quando meno la maggioranza di chi esprime questo discorso io penso che questo possa accadere tranquillamente ma in sintesi chi appoggiate a Tortoreto noi non facciamo un discorso ripeto sia a Tortoreto che a Sant'Egiglio di appoggiare qui un candidato di Forza Italia anche perché spesso questo non neanche si è caratterizzato attualmente è arrivato la voce Gino Monti non mi risulta che non è né iscritto a Forza Italia né a nuovo centrodestra faccio l'esempio Lice Romandini non lo so se è iscritto finteramente a Rando Angelini sicuramente vedendo che sia di Forza Italia o no almeno si è di Forza Italia è stato con me nei tempi storici a Tortoreto c'è una voce nuova che è arrivata oggi vero Nel solito tantam dei nomi questa mattina circolava anche il nome dell'ex manager dell'Astra Badino Casini nome che per la verità anche in precedenti tornate elettorali insomma era stato messo ovviamente insomma in questo momento di nome se ne fanno tanti è altrettanto vero come dice Venturoni che se si crea questa forma di contrapposizione personalistica tra il sindaco uscente e chi ambisce potrebbe anche essere la terza via questa ovviamente è un'ipotesi mia giornalistica non so se Sabatino Casini sia interessato a fare il sindaco di Tortoreto lui si è sempre dichiarato più un amministratore di enti che non di comuni che di politica insomma voglio dire è una figura che lui stesso se non si arriva a un accordo tra Monti e Marconi perché questo mi sembra che attualmente sia all'interno dei partiti del centro-destra che si sta discutendo non si esclude neanche una terza via per l'amore di Dio se gli altri sono d'accordo io credo che oggi come oggi Monti per quello che mi riguarda non ha amministrato male è una persona molto equilibrata che ha fatto il sindaco con dignità ha fatto anche degli investimenti sul Tortoreto sicuramente si poteva fare di più non dico di no ma sicuramente credo che sia in questo momento il candidato più autorevole in questo momento quindi venerdì sarà anche tu sentiremo non so se ci sono perché sono impegnato in un'altra parte ma se non ci sono io ci va a Tangredi è lo stesso in effetti Antelli situazioni quindi simili e dissimili quelle di Sant'Egidio e Tortoreto però volevo anche un tuo punto di vista vabbè queste sono cose che si ripetono ogni volta quindi non è che adesso scopriamo l'acqua calda però come si diceva prima è evidente la differenza con Giulianova dove non c'è un secondo turno quindi lì a maggior ragione ci vuole la capacità di fare sintesi perché lì un voto in più determina la vittoria io anche qui penso che poi gli amici che stanno sul territorio conoscono meglio di me meglio degli altri di realtà e quindi anche loro devono confidare nel buon senso e sedersi attorno a un tavolo per cercare di trovare perché sarebbe veramente grave ecco non riconquistare un comune dove si è in opposizione è grave perché significa che tu non sei riuscito in quei cinque anni a costruire un'alternativa perdere i comuni che tu amministri è ancora più grave quindi da quel punto di vista sicuramente devono trovare una soluzione comune dicevamo Magnoni allora un po' di battuta anche la lanciata Venturoni Brucchi riuscirà a trovare la capacità di sintesi Forza Italia? beh noi ce lo auguriamo tutti ma non nell'interesse di Forza Italia ma nell'interesse insomma di un centrodestra che io vorrei sempre ricordare in questi anni al di là delle sigre ha saputo far crescere una classe dirigente che è stata capace di vincere in comune in cui era tantissimo che non si vinceva di vincere in provincia di Teramo di governare molto bene una regione Abruzzo con le criticità insomma del momento con sicuramente situazioni difficili con errori fatti perché insomma noi abbiamo detto anche nell'ultima riunione che facciamo prima della divisione ufficiale un minimo di autocritica insomma il centrodestra lo deve pure fare insomma su certi tipi di scelte su certi modi di approcciarsi a determinate situazioni perché insomma da qui si cresce in qualche maniera e quindi se le cose sono andate bene insomma dividiamoci i meriti poi se c'è qualcosa che è andata male non possiamo dare la colpa soltanto a qualcuno ed è chiaro che quindi partiamo da questo punto di vista che c'è una classe dirigente importante su cui in qualche maniera si è investito e secondo me insomma su cui bisogna continuare a investire quindi rinnovamento della classe politica chiaramente e soprattutto localmente cercare di individuare quelle che sono le esigenze diciamo dei comuni partire da lì insomma il ruolo del coordinatore provinciale non sarà un ruolo sicuramente facile però insomma io credo che esperienze del genere sono state già fatte con interlocutori diversi e si è dimostrato che a un certo punto si è avuto la capacità comunque di fare sintesi e di andare a vincere però ecco è importante ripeto le persone ma io sono d'accordo pure che è importante quello che è presente quindi io credo che i cittadini interessi poco anche le sigle a questo punto quindi la Forza Italia il centro-destra interessa molto soprattutto in comuni medio-grandi comunque insomma la persona è quello che tu vai a proporre se noi facciamo vedere che parliamo di queste cose oltre a chi meglio le può interpretare allora penso che noi riusciremo a vincere tutte le competizioni in tutti i comuni se invece diamo di noi l'immagine soltanto di andare avanti per interessi personali chi perché si candida alle regionali chi perché non so spazio all'interno di un partito insomma io penso che partiamo veramente perdenti al di là delle unioni che si andranno a fare quindi è importantissimo che insomma si rifletta su questo aspetto quindi anche i contenuti e le persone che andranno che meglio possono interpretarli però a Sant'Egidio lo scontro Angelini Romandini Venturoli ma io credo che lì sono stati dei fattori abbastanza determinanti il fattore più determinante mi avviso è che Rand Angelino non è riuscito a tenere la maggioranza coesa fino in fondo perché l'andata via di Talvacchia secondo me è stato un segnale non bello che poi ha di per sé stimolato Elicio Romandini eventualmente a candidarsi a sindaco lì a Sant'Egidio perché pensa di poter riuscire a coagulare intorno a sé tutte quelle forze che in qualche modo si erano distaccate da Rand Angelini ora ma è la scelta vignore? ma io non lo so ancora perché è una questione che sicuramente è avrutata con molta attenzione penso che a Sant'Egidio è una questione veramente valutata con molta attenzione io credo che noi non possiamo assolutamente umiliare Rando Angelini però bisogna che con Rando Angelini si faccia un discorso perché andare per forza a una competizione che poi il sindaco perde ma perde poi il centrodestra non è una cosa che è produttiva per nessuno per nessuno quindi bisogna valutare veramente la situazione politica lì del posto e credo che ci siano tutti diciamo i termini per poter valutare veramente con molta attenzione la situazione lì se il candidato sindaco Licio Romandini è molto più forte da quella la sensibilità è più esterna non che diretti soggetti è molto più forte ci fa vincere Sant'Egidio credo che sia la responsabilità di Lando Angelini ci farà un passo in giro se invece Lando Angelini ancora ha il consenso elettorale di centrodestra credo che vada a difesa sotto il punto di vista però è una questione che va valutata nei prossimi giorni anche perché sono due candidati tutti e due autorevoli di peso sarebbe un grandissimo regalo a parte l'altra lista ma penso non ci guadagnerebbe la città nel disperdere qualcuno di queste due personalità insomma come hanno lavorato e quant'altro non si può pensare di vincere da solo ma naturalmente si rischia di andare verso questo scontro e lo so e questa ancora una volta tornando al discorso che ho fatto all'inizio purtroppo ahimè è quello che vorremmo riproporre come nuovo centrodestra che la politica si fa dalla base verso il vertice senza personalismi e non il vertice verso la base la base però nostra è vero con i circoli quando non c'è nessuna imposizione faremo dei congressi locali e man mano che leggeranno i locali i provinciali i provinciali i regionali il perluconismo di cui io penso di essere stato il più profondo conoscitore di congresso e non abbiamo mai fatto parliamoci chiaro perché arrivare a Berlusconi ti diceva come ha detto Alfano sei all'unanimità nel segretario il giorno dopo ti sbendisce non è che è stato qualcuno ha votato non abbiamo votato proprio niente l'unica volta che abbiamo votato all'interno del PDL sul congresso provinciale di Teramo ma con il coordinamento il coordinatore provinciale in Porta Italia con due di poco si poteva anche evitare di fare il simbolo non c'è mica la provincia c'è addirittura neanche la regione neanche il coordinatore regionale non c'è là direttamente Roma c'è il simbolo di Porta Italia nelle elezioni nelle elezioni non lo posso assicurare perché ripeto ho fatto questo coordinatore provinciale di Porta Italia per tanto tempo mica lo può avere il coordinatore regionale c'è la Roma che poi lo dà al coordinatore regionale a livello provinciale non conti poco o nulla in termini proprio di partito il discorso è diverso di invertire e va rinvertito un processo lungo è una sfida a cui credo a cui credo perché è la democrazia qui stiamo tornando un po' se fate caso un po' a quello che era la monarchia cioè in realtà in passato quando il popolo era debole quando c'era grande paura e necessità non a caso c'era il re perché quando la popolazione è debole ha bisogno di un punto forte di riferimento è come il branco quando poi invece la società evolve automaticamente si ha uno stato democratico nei momenti di crisi in particolare ritorna l'uomo forte adesso stiamo attraversando da un processo democratico che man mano dal dopoguerra ci ha portato a diciamo a dei successi economici di benessere anche troppo rispetto a quello che ci potevamo permettere improvvisamente la crisi la gente ricomincia verso il soggetto verso la persona è un rifugio cioè avere un leader è un rifugio della tua debolezza della tua incapacità di autodeterminazione non a caso i tre partiti principali hanno tre leader basta vedere però che è successo con i tali di valori che usano poi tantissimo qual è il rischio però qual è il rischio tutto questo però che non è a mio avviso democratico faccio un esempio pratico criterio dei valori che stava al 10% all'8% in un'intervista televisiva dove Di Pietro ha detto delle cose diciamo lasciamo perdere improvvisamente è corrata all'1% cioè un partito si distrugge nel momento in cui vive con la persona alla vita della stessa persona allora noi non possiamo far sì che il PDL che era prima il centro-destra possa vivere con Berlusconi che gli do non lunga vita di più una persona gli stimo tantissimo ma noi dobbiamo creare un centro-destra che abbia una struttura democratica e solida che va al di là della presenza fisica di Berlusconi questo è il punto fondamentale del discorso che ha portato poi alla costruzione del nuovo centro-destra e che è la sfida per il futuro non so se sono stato chiaro ma lo stimi ancora più di Alfano? Berlusconi io lo stimo tantissimo perché è una persona che ha conosciuto al di là dell'aspetto politico una persona umana nel senso che è una persona che ci tratti almeno ai tempi in cui lo conoscevo perché eravamo pochi mi ricordo che una sera a cena siamo stati fino alle 2 tratta tutto allo stesso modo è una persona che sta bene con il pover uomo e con il super ricco e questa è la forza della persona quando una persona non ha la buzza sotto il naso che riesce a stare bene con l'ultimo operaio e essere al soltanto forte con il più grosso potente del mondo quella è una persona vera a mio avviso e Berlusconi è così poi tutte le sue debolezze per l'amore di Dio strategicamente politicamente purtroppo per fatti contingenti non ha fatto quello che ha promesso di fare ma parliamoci chiaro perché la rivoluzione vera liberale qualcosa ha fatto ha fatto più ma la vera rivoluzione liberale la riforma della giustizia e quant'altro poi non è stato fatto siccome sono cose necessarie al paese a mio avviso cioè faccio anche l'accordo col diavolo pur di poter modificare finalmente la diciamo la riforma di questo paese che è l'unica cosa che ci permette di uscire fuori da questa crisi cioè non ci possiamo permettere più di avere di costi della politica di questo modo non ci possiamo permettere più questa burocrazia non ci possiamo permettere più questo welfare fatto in questo modo che a volte è falso perché io ce l'ho tanto per esempio con le 104 lo dico in maniera chiara cioè un paese che è in crisi non può avere questa bassa produttività non è possibile che io in ospedale ho il 30% di assenso ogni giorno quando là fuori ho le persone che non riescono a lavorare che hanno avuto un posto di lavoro ci dobbiamo mettere in mente in questo paese che il momento delle vacche grazie è finito allora ci dobbiamo ricorciare le maniche tutte per prima noi politici chiaro? allora se vogliamo fare questo lo dobbiamo fare senza pensare in questo momento che esiste Berlusconi Renzi o Giovanni esiste Paese Italia che va salvato e dobbiamo lottare tutto per questo poi una volta che abbiamo raggiunto i risultati dovuti poi possiamo anche discutere se uno è più di idea di destra o di sinistra o quello che sia sia ma oggi è prioritario e questo era il governo dell'Argentese come è stato fatto in Germania come è stato fatto in Germania non a caso Germania oggi si trova però a essere la Germania si è fatto a un certo punto un coalizio una coalizione una larga intesa cioè una fine basta lottare destra e sinistra il Paese ha un interesse superiore facciamo le riforme che dobbiamo fare facciamo finalmente quello che si deve fare per rimettere a posto questo benetto Paese e poi ci possiamo scontrare come ci pare che a me poi se governa Berlusconi se governa Renzi se governa un altro mi può piacere uno o l'altro ma a me la cosa più mi interessa è che il Paese Italia si salvi e che i miei figli non vadano all'estero certo Luca torniamo un attimo su Sant'Egidio com'è la situazione tra la probabile candidatura di Elicio Romandini e poi lo scontro probabilmente con Rando Angelini il fatto che Romandini si sia dimesso da assessore provinciale per candidarsi in regione e al momento non abbia ufficializzato la sua candidatura in regione comunque le voci che arrivano siano proprio finalizzate nella sua candidatura a sindaco è altrettanto vero che torniamo anche al discorso di Tortoreto cioè i tempi sono talmente ristretti è sempre molto difficile dire a un sindaco uscente non vai bene le riflessioni che faceva Venturoni sul piano politico sono altrettanto giuste perché c'è una parte della maggioranza o comunque chi si riconosce con l'attuale vice sindaco che nella tornata elettorale precedente ha un po' fatto la differenza perché a Sant'Egidio non dimentichiamoci che la differenza tra Angelini e la Ferri fu veramente di un'incollatura pochi voti e quel gruppo e Talvacchia ebbe un ruolo determinante 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 ed è un gruppo che ha eletto Talvacchia che è sempre gravitato in un'area centrista insomma e quindi è ovvio che è ipotizzabile che quel gruppo lì possa comunque fare accorti con Romandini è altrettanto vero però se c'è una spaccatura al centro-destra si rischia probabilmente poi di favorire il centro-sinistra che sembra aver individuato un candidato sindaco ripeto si fa sempre riferimento a quella che è stata la tornata elettorale cinque anni fa in cui con due contendenti la differenza fu veramente veramente minima certo torniamo a Lantelli sintesi politica a Giulianova si riuscirà a fare sintesi politica attorno al tuo nome? ti aspetti qualche sorpresa? non è che io mi sono innamorato di questo ruolo io ho solamente ti senti il candidato sindaco ma sicuramente ti senti il candidato sindaco perché è l'espressione della volontà locale dopodiché se ci si deve mettere attorno al tavolino e discutere con gli altri alleati si con gli altri possibili alleati oltretutto si faceva ad esempio il progresso giugliese io ho saltato un turno ma con il progresso giugliese io ho un plico di interventi sottoscritti da me e da Flaviano Pograndi come gruppo di Forza Italia e da loro contro questa amministrazione quindi ci unisce una storia voglio dire anche di opposizione recente in consiglio comunale quindi da quel punto di vista io credo che la sintesi si possa ampiamente trovare con quel gruppo lì dopodiché ovviamente si deve mettere sul tavolo della valutazione con quale ruolo e con quale spazio all'interno di una coalizione più ampia ma io credo che con il progresso giugliese adesso poi se uno poi si vuole puntare dice no perché allora questo è un altro tipo di discorso se si vuole fare un discorso lucido razionale basta vedere gli interventi degli ultimi tre anni in consiglio comunale e si avrà la rappresentazione plastica di un percorso condiviso tra il nostro gruppo di opposizione e il loro gruppo di opposizione quante notti con Gianfranco Francioni a studiare le carte i documenti gli atti per poi andare insieme in consiglio comunale quindi da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema quindi quantomeno se ne parlerà ecco questo sicuramente dato che sei stato frettoloso quanto tempo dovrai aspettare? io non aspetterò nulla perché noi già siamo in campagna elettorale noi questa sera quando tornerò in Giulia 9 avrò un incontro già lì in sede con alcuni rappresentanti delle categorie faremo gli incontri dalla settimana prossima adesso ci stiamo organizzando nei vari quartieri andremo a parlare con tutte le realtà che sono sul territorio noi andiamo avanti perché i cittadini non sopportano i tatticismi i cittadini vogliono avere un'idea di alternativa e noi dobbiamo essere però anche in grado di rappresentare questa idea quindi non possiamo stare lì al balcone ad aspettare che qualcuno ci suggerisca la risposta noi la risposta la sappiamo la costruiremo insieme con gli altri se ce n'è la possibilità ma sicuramente con determinazione andremo avanti questo è fuori di dubbio bene ultime battute l'ultima domanda andiamo per un attimo anche nel finale ovviamente in regione Abruzzo ieri è uscita anche la terza candidata il terzo candidato della regione Abruzzo che è una donna bella ragazza tra l'altro del movimento 5 stelle 38 anni tra l'altro giovanissima che andrà a contendere lo scettro con Luciano D'Alfonso il candidato del centro-sinistra e poi Gianni Chiodi che dovrebbe essere fino a prova contraria Venturoni il candidato per il centro-destra io so a meno che non ci siano sorprese io ho dei dubbi ho dei dubbi più su D'Alfonso non che su Gia Chiodi a dire la verità addirittura se voglio essere sincero che non aver vinto le primarie col centro-sinistra non significa che sia il candidato di sicuro Sardegna-Docet e penso che se andiamo a vedere i problemi qualche sorpresina i problemi c'era sicuramente più D'Alfonso rispetto a Gianni Chiodi se si parla di problemi eventualmente giudiziari io sono un tifoso di Gianni Chiodi perché al di là del fatto che sono stati squadra con lui sono stati capogruppo in regione sicuramente sono stati da quelli che più la sponsorizzate anche per fare il presidente della regione ma al di là di questo non è un rapporto personale ne faccio un giudizio politico la regione Abruzzo Gianni Chiodi questo io faccio una colpa invece non l'ha saputo ancora far capire bene agli abruzzesi la regione Abruzzo era in uno stato di fallimento per una politica scellerata fatta di clientela politica di occupazione del potere che ha portato l'Abruzzo a accumulare debiti in dieci anni che sono dieci volte superiori il bilancio corrente della regione Abruzzo in otto anni noi abbiamo accumulato in otto anni ben tre miliardi e mezzo di euro di debiti quasi cinque centomila euro l'anno più o meno a occhio nel giro di due anni due anni la maggior parte era una sanità due anni in cui ha fatto l'assessore alla sanità Gianni Chiodi il sottoscritto ha rimesso in pareggio il bilancio della regione Abruzzo questo non è stato fatto perché come dice qualcuno ha tagliato ha fatto i conti ragioneristici no è stato fatto riducendo le alzle da sei a quattro una lotta politica non indifferente qui si volevo sapere volevo vedere cosa accadeva qui in in Balbibrata se come chiedevano gli altri si chiudeva l'ospedale di Santomeno faccio l'esempio abbiamo abbiamo avuto la possibilità di far rimanere i quattro ospedali in provincia di Teramo non perché il Presidente della Regione era di Teramo e l'Abranco Venturone era l'assessore della sanità forse anche per questo ma sicuramente non era stato questo il motivo il motivo è che la provincia di Teramo aveva solo quattro ospedali non aveva cliniche private su 320 mila abitanti quando la provincia dell'Aquila che ha lo stesso numero di abitanti tra ospedali pubblici e privati ne aveva 15 e riconvertire le realtà come Pescina Tagliacozzo G.C. era vivo ancora Remo Gasperi Casoli Guardia Grele non pensate che sia stato uno scherzo che poi per non parlare la deregulation totale che c'era nelle cliniche private quindi non solo che ha portato finalmente al gruppo più importante che rappresentava da solo più del 50% della spesa privata che era il gruppo Villapini a salvoguardare quello che era di valido come il San Stefano per esempio che è una struttura super valida che lavorava seriamente e professionalmente senza fare imbrogli ma a denunciare per primo tutti i problemi della riabilitazione psichiatrica ricordo Paolucci le villette per non pensare per non parlare poi dei crediti non dovuti per cui abbiamo fatto un recupero di 100 milioni di euro al gruppo Villapini che poi lui ha deciso di voler andare allo scontro e quindi abbiamo portato per forza il disaccreditamento tutto questo ripeto che forse adesso ce ne siamo dimenticati ma non è stato privo di diciamo di trauma non è stato traumatico è stata una guerra che se voi vi ricordate iniziale frontale con una maggioranza super compatta su queste cose perché abbiamo toccato anche i territori e i territori i rappresentanti di quei territori per prima li ringrazio veramente i consiglieri regionali di Chieti dell'Aquila che quando sono visti sul proprio territorio di convertire gli ospedali o vedi il caso Villapini dipendenti che venivano non uno 1500 che veniva a occupare la regione non le hanno dato un minimo spazio perché si è fatta una politica di rigore una politica che ha riportato l'Abruzzo sul binario giusto tutto questo ripeto è stato frutto veramente di una politica nuova vi posso assicurare dal di là di questi che si fanno adesso di Rimbortopoli perché è come quando uno non riesce più a trovare nulla abbiamo siamo passati se voi fate caso a uno scandalo vero che era sulla ricostruzione dell'Aquila che aveva coinvolto il sindaco Cialente il quale si era dimesso dimesso va bene dal salcarico perché si parlava di 300 mila euro di tangenti se no se ne è al vero non ti doveva dimettere che sono fatte le manifestazioni per ritornare su sai quando è tornato il sindaco Cialente a fare il sindaco nel momento in cui andate a fare il vice sindaco e c'è stato il procuratore di Pescara da allora si è scritto più un rigo su che cosa è successo di quelle famose delle motivazioni per cui Cialente si è dimesso qualcuno ha detto qualcosa si è scritto più niente no improvvisamente dopo dieci giorni esce uno scandalo che è sottoscritto per 200 euro di 25 euro l'ordine di indennità di missione dico ragazzi io credo che queste cose qui allora qualcuno deve pur fare un attimo di riflessione su queste cose no allora io credo che noi abbiamo tutte le carte in regola per poterci ripresentare la guida di questa regione non solo per far sì che questa regione finalmente non ritorni a un modo di fare politica del passato di cui D'Alfonso per prima ma non voglio parlare del Movimento di Sto Stelle perché è un altro discorso ne è stata l'espressione delle lobby forti che in qualche modo hanno inciso poi profondamente sulla gestione regionale e che hanno portato poi allo sfascio di questa regione io questo percorso e questa storia spero che gli abruzzesi per l'interesse abruzzesi che non la vivono più dopodiché che si debba fare una politica nuova di investimento che possa finalmente rilanciare l'Abruzzo in termini produttivi è come ogni dubbio ma è come un'azienda parlamentare se prima non risani non puoi investire oggi l'Abruzzo si è presente a tutte le carte legge per poter investire investire su un nuovo ospedale investire su fondi FAS cioè finalmente finiamo di pagare le cartellizzazioni almeno una rata che sono ben 65 milioni di euro che dal 2015 abbiamo a disposizione e possiamo rilanciare quello che è l'occupazione tenendo presente una cosa tra l'altro e su questo insisto moltissimo che bisogna che noi curiamo di più gli imprenditori cioè non si può fare politica tenendo da parte l'impresa l'impresa cioè il politico deve stare vicino all'impresa oggi purtroppo apro questa piccola parola scusami ma ci tengo particolarmente a questo è un discorso che fa anche Lucero D'Alfonso no ma oggi il politico c'è paura di il politico è spaventato di ricevere l'imprenditore perché ormai si è arrivata un'equazione che se tu parli con un imprenditore vuol dire che tu in qualche modo hai un interesse personale nel momento in cui parli con l'imprenditore come se quello ti chiede un aiuto e ti dai in cambio la mazzetta questo se è stato vero per rari casi non è la non è la generalità non è la regola non è la regola invece oggi se devo fare un'equazione indifferibile cioè questa cosa non è possibile per cui che cosa fa il politico normalmente c'è in tanti prima di tutto non parlare con l'impresa ma tenta di non fare più niente perché paradossalmente qui poi fate caso cioè il politico per poco non fa nulla è quello più stimato nessuno lo attacca il politico che fa qualcosa chissà perché deve fare cioè non è possibile questa equazione allora noi dobbiamo metterci in mente che in questa regione che ne abbiamo le potenzialità dopo questi anni di lacrime e sangue perché abbiamo fatto veramente anni di lacrime e sangue ma scusa ma voi pensate che veramente che a noi ci ha fatto piacere togli di fondi alla cultura alla sport e come andiamo ma dobbiamo fare delle scelte non è che il periodo delle vacche grassi è finito non ci hanno i soldi allora abbiamo fatto delle scelte di rigore che ci hanno permesso però finalmente di riportare questa benetta regione sul binario della virtuosità di raggiungere il famoso fareggio di bilancio no quello abbiamo raggiunto già nel 2000 ma 2010 ma oggi oggi grazie all'azione amministrativa di questa regione spero che Gianni Chiodi lo faccia capire bene qual è stata l'azione amministrativa di questa regione e si finisca con i gossip invece si parli di politica e di atti amministrativi non delle cazzate scusate la parola voglio dire perché finalmente si comincia a capire qual è stata l'azione amministrativa che porterà la regione a Bruxelles di avere soldi e disposizioni veri da poter spendere perché non è credere che domani mattina dici io voglio avere questo e lo fai per avere 500 milioni da spendere per gli ospedali abbiamo messo 5 anni capito? 5 anni adesso si può cominciare a fare per avere i fondi FAS siamo primi in Italia a averli come fa dopo un'altra forza un'altra regione ma tra i primi in Italia ci abbiamo avuto quattro anni di lavoro per sopra non è che la mattina il prende e ti alzi capire e fai i record quindi abbiamo sempre di capire che il centrodestra è compatto almeno su una cosa sul nome di Gendichiodi Massimo Vagnoli direi proprio di sì insomma almeno su una cosa se non può saltare con la lunga ring del dottor non possiamo fare altro a parte la battuta beh io credo veramente che sia sotto gli occhi di tutti forse l'unico problema che si diceva prima il discorso di saper comunicare perché poi le persone ripete tanti discorsi anche abbiamo fatto noi qui questo oggi pomeriggio rischia veramente di non interessare tantissima la gente perché poi la gente interessa il risultato della politica è chiaro che il risultato la politica abruzzese li stiamo vedendo adesso sui territori diceva prima il discorso degli sblocchi dei fondi FAS che insomma sono l'impa vitale per imprese per lavoratori per associazione 30 milioni e passe per l'alluvione noi su questo dobbiamo parlare e questo dobbiamo comunicare anche se qualcuno è ancora rispetto a risolvere poi ci sono sempre discorsi della burocrazia lunghissima perché la politica arriva a un certo punto e poi dopo spesso si blocca però al di là di questo aspetto insomma sulla figura di Gianni Chiodi credo che siamo tutti quanti d'accordo ora è importante stare veramente sui territori e mi auguro pure che anche nella posizione delle liste insomma si faccia veramente un ottimo lavoro con anche la rappresentanza dei vari territori affinché ogni istanza in qualche maniera continui ad arrivare insomma in regioni attraverso le regioni a livello nazionale è importante questo perché poi solo così noi riconquistiamo il collegamento tra il cittadino qui mi collega nel discorso di 5 stelle tra il cittadino e chi fa politica insomma essere un Movimento 5 Stelle è a tutti gli effetti un partito insomma di là della differenza terminologica insomma tra cittadini onorevoli e quant'altro insomma è comunque protestare una cosa e amministrare una altra insomma io credo che il confronto anche con questa lista sarà proprio sui contenuti e su come se invece le campagne elettorali anche qui diventa solo ecco voi che siete stati fino ad adesso avete solo rubato non avete fatto niente in qualche maniera alimentando una situazione di crisi che è ancora attuale soprattutto noi siamo qui in Val Vibrata che vive una situazione di crisi gravissima con aziende che chiudono ogni giorno di necessità rilevanza io sono diventi insicuro insomma lì abbiamo realtà industriali che vivono delle difficoltà enormi è chiaro che se cavalchiamo quest'onda chiaramente diciamo chi ha fatto politica fino ad adesso rischia di essere messo da parte noi chiediamo ai cittadini insomma come abbiamo sempre fatto di dare fiducia a una continuità da un certo punto di vista e per dare anche ripeto continuità a queste risorse per far crescere e credo che Gianni Chiodi possa essere la garanzia per questo Antelli Gianni Chiodi è presidente è un po' la sintesi del centro-destra mi sembra solo questa ma è normale che poi ci si identifica tutti quanti in una comunione di intenti sulla persona del presidente questo io sottoscrivo pienamente tutto quanto quello che è stato detto quindi speriamo di portare anche il contributo di Giulia Nova alla vittoria regionale bene Luca pensi veramente che alla fine sarà lui il candidato ci saranno sorprese per quanto riguarda il centro-destra non credo non credo ormai non credo proprio ormai non più no non credo proprio ormai si va verso la candidatura penso che non ci siano dubbi sotto questo punto di vista la sintesi che va trovata nei territori qui insomma è già è già più complessa ma anche qui io insisto Gianni Chiodi non perché Gianni Chiodi Gianni Chiodi perché è stato un governo di coalizione di tutto il PDL tutto il centro-destra che ha funzionato quindi ecco la musica perché ancora una volta si tenda ancora una volta di la persona la persona è la sintesi è il capo di una coalizione di governo che ha governato bene ecco perché va riconfermato perché Gianni Chiodi potrebbe essere la persona più incredibile di questo mondo ma poi in realtà il governo Amale è un altro discorso che voi vogliono dire certo mi dicevi prima una cosa che mi sono dimenticato perché non ho risposto mi hai detto prima di Alfano e Berlusconi beh se lo preferisci effettivamente Alfano e il futuro non l'ho detto io l'ha detto Silvio Berlusconi l'aveva dopo dopo adesso qualche soggetto ha cambiato idea qualche soggetto interno l'aveva detto all'unanimità ero io presente gli appalti scloscianti sì ma adesso ha cambiato poi te lo dico subito perché una fantanchè un brunette o un verdini che conosco da tanti anni e compagnia bella convinto un amico carissimo stimato Berlusconi non è stata per me sbagliata Alfano è il futuro del centro-destra su questo ci credo e spero che infatti poi mi daranno ragione e vedremo intanto vedremo quale sarà il futuro del centro-destra qui in provincia di Teramo quindi anche nelle prossime amministrative se riuscirà al centro-destra a trovare la sintesi ringrazio i miei ospiti ringrazio Lanfranco Venturoni capogruppo regionale del nuovo centro-destra grazie di essere venuto qui ringrazio Massimo Vagnoni consigliere provinciale consigliere comunale di progetto comune a Martinsicuro ringrazio Gianluca Antelli candidato sindaco non ancora ufficiale del centro-destra di Forza Italia non solo del centro-destra speriamo che l'ufficializzazione arrivi presto e ringrazio il collega Luca Zarroli e noi ci ritroveremo come J Magazine appunto domani alla conduzione appunto Luca Zarroli arrivederci buonasera a tutti buonasera grazie a tutti